Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Su canale 5 sarebbe dovuto andare in onda il documentario La Grande Bellezza. Sembra però che gli autori abbiano deciso di prendere alcuni provvedimenti disciplinari non rimandabili. Alfonso Signorini aprirà la diretta alle 21.45 per comunicare drastiche decisioni. Il Grande Fratello Vip quindi andrà in onda stasera, venerdì 7 gennaio 2022. Ma non era previsto. Alfonso Signorini aveva spiegato, dopo le prime uscite infelice di qualcuno, che il GF sarebbe stato meno bacchettone. Tuttavia ora non è più possibile chiudere gli occhi. Quello che è successo negli ultimi giorni ha indignato il web. Alcune concorrenti hanno chiesto la squalifica di Katia Ricciarelli per razzismo. Moltissimi utenti online sono d'accordo. Secondo recenti rumor, la puntata del reality sarebbe stata anticipata al 7 gennaio proprio per questo. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella. Grazie!